la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it buongiorno gentili telespettatori ben trovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani ne dico la questa mattina martedì 2 aprile partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale al centro del dibattito la pronuncia dell'Ocse per quanto riguarda la crescita in Italia una crescita stimata considerata bassissima o meglio quasi nulla vediamo il titolo crescita a Tria sotto assedio il ministro convocato da Conte decreti pronti ritardi colpa delle liti tra Lega e Movimento 5 Stelle l'Ocse critica il governo quota 100 e il reddito frenano l'Italia ora vanno cancellati Tria sotto assedio sulla crescita il ministro dell'economia è stato convocato dal premier Conte le misure in consiglio dei ministri intanto Oxe boccia quota 100 il report sull'Italia è impietoso economia frena ferma la ripresa ha rallentato quota 100 e reddito frenano l'Italia ora vanno cancellati questa la richiesta dell'Ocse andiamo avanti il Regno Unito nel voto Brexit bocciati tutti i piani B l'uscita senza rete è a un passo non si blocca lo stallo sulla Brexit la Camera dei Comuni ha infatti bocciato di nuovo le opzioni di piano B alternative all'accordo di divorzio raggiunto dal premier Teresa May con Bruxelles e poi l'altro caso a Torino arriva una busta esplosiva all'Appendino la pista anarchice Appendino la scorta non ti basta le minacce degli anarchici durante il corteo a Torino dello scorso 30 marzo è seguita l'azione ieri una bomba è inviata alla sindaca Chiara Appendino andiamo avanti sempre di taglio alto i focus dagli Albatross alle tartarughe la strage della plastica soviglie monouso tubi buste per la spesa grovigli di reti e lenze sacchi neri dell'immondizia e mare c'è di tutto si muore sempre più di plastica e continuiamo per le notizie riportate di fondo il commento il macigno delle pensioni elettorali noi politici sappiamo bene cosa sia giusto fare solo che non sappiamo come farci rieleggere una volta che lo abbiamo fatto questa massima che è stata attribuita a seconda delle stagioni a Churchill Kennedy ultimamente persino al presidente della commissione europea Juncker racchiude una delle grandi e triste verità relative alle scelte strategiche della politica e poi lo scenario più innovazione solo così il sud può iniziare a crescere centropagina nozze trash caos autorizzazioni il sindaco nella bufera Tony De Magistris la foto in comune e il concerto in campagna elettorale e poi ancora centropagina i dati delle procure finiti nel cervellone Amazon degli USA l'inchiesta a Napoli sul software spia Exodus due aziende sotto sequestro quattro gli indagati a Eboli invece fa retromarcia mamma investe la figlia di due anni tragedia sfiorata tra le palazzine di via Indelli una bimba di due anni è stata investita dalla madre mentre effettuava la retromarcia di taglio basso perché l'invidia di chi è felice può portare anche ad uccidere l'assassino del ragazzo sgozzato a Torino infatti ricordiamo aveva dichiarato di averlo ucciso perché lo vedeva troppo felice andiamo di taglio alto nei box il ritorno in tv di Raffaella Carraimi i dialoghi con Fiorello Muti e Sofia Loren e poi per il calcio invece le pagelle del mattino dopo la vittoria contro la Roma da Ruiz a Verdi chi sale e chi scende tra gli acquisti del 2018 ancora il nuovo saggio l'ultima sfida di Frozen salviamo quello che amiamo questi sono i principali titoli i principali argomenti per il mattino nazionale vediamo invece per il mattino di Salerno quali sono gli articoli di maggior spessore per la prima pagina di Salerno vediamo si parla intanto di reddito oltre 20.000 richieste per il reddito di cittadinanza record di aspiranti anno c'era anche Battipaglia supera Salerno stop alle domande online un sussidio di cittadinanza il numero delle istanze può ancora salire i primi verdetti a metà aprile per la politica PD De Luca boccia il nuovo simbolo per le europee non mi piace sostenuto il perdente Martina poi ha applaudito alla vittoria di Zingaretti ora che mancano 15 giorni alla presentazione delle liste per le elezioni europee il governatore della campagna Vincenzo De Luca ha bocciato il nuovo simbolo del PD che reca la scritta siamo europei a chi gli chiedeva se gli piace il presidente della regione ha risposto con un secco no per l'economia patto con l'asi e eboli nella zona ad economia speciale polo industriale combatti paglia le firme apposte da Massimo Cariello sindaco di eboli Antonio Visconti presidente del consorzio ASI di Salerno sul protocollo di intesa per la programmazione delle aree industriali suggella l'inizio di uno sviluppo industriale che punta la valorizzazione della Piana del Sele torniamo di taglio alto la storia parrucchiera con due bimbi e senza casa più dei soldi voglio un lavoro vero e poi l'ambiente energia pulita con l'idrogeno progetto pilota da contursi nella fotonotizia invece il calcio con la Salernitana con Salernitana con Rosina Gregucci si gioca tutto Granata con 200 tifosi alla Spezia si riparte con Alessandro Rosina e da quasi 200 cuori Granata in cui in quella di La Spezia si riparte con il 4-4-1 disegnato ultimamente da Angelo Gregucci si riparte dal turno infrasettimanale del campionato cadetto che vedrà i Granata impegnarsi questa sera in terra Ligure prima dello stop forzato che la Salernitana dovrà sostenere centro pagina investe la figlia in retromarcia grave la bambina di due anni mamma sotto shock la piccola ricoverata al Santo Bono tragedia sfiorata tra le palazzine di via Indelli a Eboli una bimba di due anni è stata investita dalla madre a madre alla guida della sua auto effettuava una manovra in retromarcia accaduto ieri mattina tra le palazzine IACP futura di Eboli poco lontano dalla zona 167 e poi il caso Pizzo all'allenatore di Pugilato nigeriano violento arrestato al Vestuti andiamo a di taglio basso il carcere dietro le sbarre senza cibo ne medicine parte lo sportello di assistenza i detenuti di Salerno ed Eboli nelle fotonotizie social city gli eroi del cosplay il fumetto diventa realtà e poi i trasporti la rivolta dei bus turistici basta limiti al traffico per le notizie nei box in alto Rocco Ant Salerno suona hip hop Rocco Ant verso capa plaza capo plaza e poi il personaggio il rosario il menestrello la chitarra è la mia vita questa è la prima pagina del mattino di Salerno ancora le altre prime pagine andiamo sulla città vediamo il titolo si parla del teatro verdi a Salerno in apertura verdi la prima costerà mezzo milione redebutto della lirica con la figlia del reggimento firmata la determina con impegno di spesa chiesto dal maestro Oren nel 2018 contributi pubblici al massimo cittadino spesi 4 milioni e mezzo incassi per soli 357 mila euro nella fotonotizia i collegamenti via mare masuccio imbarchi senza servizi e poi arriva il provvedimento della polizia municipale nuova sede a Santa Margherita a Salerno è stata inaugurata ieri la nuova sede della polizia municipale andiamo di fondo la sanitaria il nuovo ticket dell'asl come evitare le fili e poi per le infrastrutture per la Salerno-Napoli gestione di proroghe ancora la politica baronissi il PD caccia chi è contro variante di spalla andiamo a Ebole auto in retromarcia la mamma in veste la figlia di due anni lo abbiamo visto anche dalle altre pagine anno c'era inferiore invece tratta dei bimbi per le remosi ne arrivano dure condanne a Sarno dopo 26 anni il comune cancella la tassa sull'ombra nei box in alto crisi salernitana granata alla spezia l'asso su cui si punta è Rosina e poi il futuro della Federcalcio Sibilia decideremo sulle multiproprietà per quanto riguarda invece le notizie di taglio basso con cui chiude la prima pagina della città Moro Faranda parole oltre l'odio il colloquio del perdono tra la figlia dell'ex leader DC e la postina delle Brigate Rosse la parola l'ascolto il confronto possono aiutare a superare il dolore e l'odio il messaggio lanciato ieri da Agnese Moro figlia dello statista Aldo Moro ucciso 41 anni fa dalle Brigate Rosse e da Adriana Faranda ex brigatista che si sono incontrate all'Istituto Tecnico Economico Falce di Brienza nell'ambito della rassegna percorsi oltre il rancore questa è la prima pagina della città chiudiamo ora per quanto riguarda le prime pagine con le notizie riportate sulle cronache vediamo il titolo di apertura andiamo a Salerno sicurezza zero niente elemosina giubbotte un nigeriano semine il terrore all'interno della palestra di Pugilato dello stadio Vestuti vuole due euro a rifiuto aggredisce il maestro Davide Forte con un mattone e poi i carabinieri quindi qua le cronache su questo argomento parla proprio della sicurezza a Salerno andiamo avanti centro pagine cento anni del tifo Granata forza salernitana il primo coro si levò nell'estate del 1919 la partita si disputò a Piazza Darmi intanto la squadra di Gregucci è impegnata questa sera contro gli uomini di Marino con la Spezia guai a perdere le altre notizie di taglio basso andiamo a Nocera il processo al boss il pentito Archetti Mariniello uccise l'avvocato Barbarulo a Nocera tratta di Rom sei anni all'autista rumeno e poi a Nocera inferiore il salernitano di Giacomo e violinista alla Rai per quanto riguarda invece le notizie riportate nei box in alto andiamo a Salerno ce l'hanno meglio il parcheggio l'assessore De Maio nell'area adiacente il bocciodromo la nuova sede dei vigili urbani e abbiamo visto invece c'era chi chiedeva un parcheggio proprio da realizzare in quell'area e poi a Eboli mamma investe la figlia di due anni la bimba ha riportato un trauma cranico ora è ricoverata al Santo Bono queste le notizie principali per le cronache andiamo ora torniamo sul mattino nazionale quindi andiamo ad approfondire alcuni dei temi visti dal visto dalla prima pagina del mattino nazionale proprio per quanto riguarda le notizie italiane partendo dall'economia partiamo quindi dal titolo di apertura parliamo della crescita dopo la pronuncia dell'Ocse per quanto riguarda i dati relativi proprio alla crescita dell'Italia le previsioni dell'Ocse per la crescita in Italia che boccia il reddito di cittadinanza e quota 100 vediamo il titolo l'Ocse l'Italia in stallo bocciata quota 100 l'ira di Salvini e di Di Maio Gurdia Duro con i prepensionamenti più debito e meno lavoro cancellateli vicepremier non dovete interferire Conte attacca le stime sono sbagliate secondo il rapporto il sussidio rischia di incoraggiare il nero ma può funzionare con l'importo ridotto e poi andiamo avanti di taglio basso troviamo l'intervista Massimo Garavaglia comuni liberi di investire meno tasse alle aziende il DL crescita darà la scossa benefici al sud dalle zone speciali e dagli 80 miliardi del fondo coesione di cui è stato speso poco o nulla ognuno è libero di dire ciò che vuole anche le sciocchezze ma questo governo sta semplicemente facendo ciò che aveva promesso in campagna elettorale l'unica novità è questa Massimo Garavaglia sottosegretario all'economia in quota lega risponde a muso duro alle accuse dell'Ox che definisce una che ipotizza una crescita zero per l'Italia con le due misure del reddito di cittadinanza e di quota 100 e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria torneremo tra pochissimo per continuare a sfogliare le pagine dei nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo nelle pagine interne del mattino nazionale parliamo del mattino di Salerno scusate e parliamo del reddito del sussidio del reddito di cittadinanza l'abbiamo visto anche dalla prima pagina che poi è stato anche il titolo di apertura vediamo come stanno andando le richieste nel salernitano reddito oltre 20.000 le domande hanno già l'inferiore il record delle richieste con 5.700 domande presentate Salerno terza dopo battipaglia seguono Agropoli e Sapri l'Inps dati in elaborazione si può arrivare a 25.000 sospese le istanze online dal 15 aprile le prime risposte il numero è destinato ad aumentare perché i sistemi informatici dell'Inps sono in aggiornamento costante in questi giorni ma al momento alla direzione provinciale dell'Istituto Nazionale di Previdenza di Salerno sono pervenute circa 20.000 domande presentate nel capoluogo e nella provincia da persone che chiedono il reddito di cittadinanza il numero maggiore di richieste di accesso alla misura di sostegno si registrano c'è l'inferiore battipaglia e Salerno si posiziona terza andiamo avanti la storia più dei soldi mi interessa un lavoro non precario ex parrucchiera di 39 anni due figli e marito disoccupato viviamo dai genitori speriamo di poter dare un futuro ai ragazzi niente casa di proprietà e nessun lavoro stabile due bambini a cui badare per assicurare loro un futuro e un marito disoccupato dietro alla domanda presentata per ottenere il reddito di cittadinanza parecchia speranza non tanto per ottenere il beneficio economico mensile quanto per ricevere un'offerta lavorativa valida che sia per me o per mio marito poco importa queste le parole di Giulia donna di 39 anni di Ponte Cagnano Faiano che è in attesa di conoscere se rientrerà tra i percettori della misura introdotta dal governo Conte di taglio basso agenzie entrate dipendenti sciopero recuperiamo miliardi non ci pagano non ancora saldato il salario accessorio del 2016 e del 2017 saltati i tentativi di conciliazione al ministero e poi l'incontro giovani imprenditori a confronto sulle lobby alle 15.30 si riterrà un'assemblea pubblica del gruppo giovani imprenditori di Confindustria Salerno sul tema lobby oltre i pregiudizi chiudiamo questa pagina restiamo sul mattino di Salerno e andiamo a parlare dell'economia in particolare della novità a Contursi energia ad idrogeno la svolta green parte da Contursi questo è il titolo prima sperimentazione in Europa fornitura verde per due aziende l'iniziativa della Snam la D alvera in questa terra l'occasione giusta due aziende dell'area industriale di Contursi Terme da ieri funzionano con idrogeno oltre che con il gas è una sperimentazione europea che la Snam ha realizzato scegliendo l'area produttiva della cittadina termale per dar vita a questo percorso con zero emissioni ieri mattina si è tenuta la cerimonia di emissione in rete dell'idrogeno con l'amministratore delegato di Snam Marco Alvera il sottosegretario allo sviluppo Andrea Cioff e il sindaco di Contursi Alfonso Forlenza alimentazione rinnovabile per una ditta che produce pasta e per un'altra che imbottiglia acqua andiamo avanti il taglio basso il traffico niente paralisi ma tanti ostacoli sosta selvaggia nelle corse preferenziali bus la denuncia dei sindacati troppo indisciplinati cinque linee su otto hanno subito rallentamenti nonostante il traffico cittadino sia stato decisamente più scorrevole rispetto alla paralisi dello scorso fine settimana con buona pace degli automobilisti fermi in auto anche per ore soprattutto in direzione costiera c'è chi anche questa domenica per le strade del centro di Salerno ha trovato ostacoli sul proprio percorso un percorso scritto disegnato e delineato in alcuni casi da specifiche corsie chiudiamo questa pagina chiudiamo le pagine del mattino e andiamo ora invece sulle cronache vediamo i principali argomenti partendo dalla pagina di primo piano dedicata alle notizie provenienti da Salerno si parla della tassa di soggiorno e c'è chi non apprezza la nuova misura vediamo in posta di soggiorno il rincaro preoccupa i titolari di bed and breakfast scelta che rischia di mandare in crisi l'intero settore del turismo cittadino dopo la decisione del consiglio comunale di rialzare i prezzi i titolari e i gestori di attività ricettive dicono la loro sulla decisione Alessandro Lenza va bene pagare una tariffa minima ma non capisco la sproporzione tra le varie tipologie di strutture e l'aumento in sé Enrico Campione aumento ingiustificato si diano risposte alla crescita delle attività abusive che ci danneggiano parla anche Simone Landi così si arricchiranno coloro che lavorano in nero l'aumento della tassa di soggiorno manderà in crisi il turismo a Salerno e quanto pensano alcuni titolari di bed and breakfast e affittacamere due tra più diffuse della nostra città tanti sono i giovani salernitani che si dedicano a questo tipo di attività non solo reputano ingiusto l'aumento del tributo ma temono che possa mettere a repentaglio la redditività spesso già insoddisfacente delle loro strutture ricettive andiamo di taglio basso l'ha proposto un nuovo comando dei vigi nell'area del bocciodromo la maggioranza spinge per trovare una soluzione che agevoli cittadini celano creiamo un parcheggio trasferire il comando dei vigili urbani di Salerno in una zona più centrale della città di Salerno è stato questo il tema discusso durante l'ottava commissione mobilità presieduta da Mimmo Ventura tenutasi ieri mattina al terzo piano di Palazzo di Città chiudiamo questa pagina andiamo avanti sulle cronache andiamo sulle pagine dedicate alle notizie provenienti dalla provincia in particolare andiamo a Eboli si parla in apertura del caso della donna che ha investito la figlia vediamo investita dalla mamma bimba grave in ospedale la corsa all'ospedale di Battipaglia poi il trasferimento al Santo Bono la donna non si accorge della bambina durante una manovra e la travolge facendo il retromarcio una bambina di due anni in prognosi riservata investita accidentalmente dalla madre è successo ieri mattina in zona epitaffio la bimba stando ad alcune alle prime ricostruzioni si trovava dietro l'automobile mentre la madre era impegnata in una manovra e poi il caso cultura e il teatro alia l'ICAT per recuperare l'atmosfera di cultura e bellezza iniziativa voluta da mi girano le ruote di taglio basso firmato l'accordo tra comune e asi si avvicina alla Zessi il documento siglato dal sindaco Cariello e dal presidente Visconti si avvia ora una programmazione comune chiudiamo questa pagina andiamo avanti andiamo sulle pagine della provincia sud di Salerno vediamo il titolo in apertura andiamo a Castellabate storia dell'azione cattolica nella diocesi di Cava dei Tireni la giurisdizione della millenaria Badia si componeva di 17 parrocchie prestigiosi esperti a confronto e ancora nel Vallo di Diano Giuliano evoca rottura via annunziata polla aumentate le tariffe atteggiano giù le tasse ma meno servizi fine settimana di consigli comunali nel Vallo di Diano con qualche sorpresa e diversi momenti cruciali per la vita politica di vari comuni con il bilancio da approvare ad Atena Lucana il sindaco Luigi Vertuccio nel primo punto all'ordine del giorno ha proposto al consiglio di avviare la procedura di decadenza del consigliere Sergio ha annunziata in quanto ha sostenuto il primo cittadino è stato assente tre volte consecutive senza giustificare entro le 24 ore il motivo della sua assenza come da regolamento del consiglio comunale posso chiederne la decadenza proteste dell'ex sindaco che era presente in aula ora ha 20 giorni di tempo per portare delle giustificazioni che verranno poi valutate dal presidente del consiglio e dal consiglio a Polla invece il consiglio ha portato alla rottura tra Rocco Giuliano e l'ex fedelissimo Graziano Vocca che è entrato in consiglio comunale al posto della dimissionaria Teresa Pascale ma l'assemblea ha portato anche all'aumento di alcune aliquote e alla rabbia dell'opposizione soprattutto del consigliere Vito Branco a Teggiano invece le tasse sono state abbassate con soddisfazione della maggioranza ma la minoranza ha confutato questa gioia perché meno tasse con meno servizi i cittadini hanno bisogno di servizi andiamo avanti a sala consiglina anomalie al depuratore intervenga l'ARPA che il Codacons ha rivelato alcuni parametri non in regola e a Polla malattie oncologiche la notte della camminata rosa l'iniziativa di sensibilizzazione l'ospedale si è colorato di rosa per una notte per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche delle malattie oncologiche con particolare attenzione alla patologia di genere e ai percorsi di prevenzione nel fine settimana dedicato proprio alla sensibilizzazione a Polla sulle malattie oncologiche con convegni e poi la camminata in rosa della domenica chiudiamo questa pagina andiamo infine sulla pagina dedicata alla Salernitana si parla dei festeggiamenti dei cento anni della Salernitana nata nel 1919 vediamo il titolo in questa pagina che racconta proprio i cento anni di tifo Granata il primo coro Forza Salernitana a Piazza Darmi durante l'estate del 1919 quel 19 giugno nel primo dopoguerra nacque l'Unione Sportiva Salernitana ad Algiso Onessi fu il primo patron comincia con questo articolo un appuntamento che vedrà il quotidiano Le Cronache impegnato dal lunedì a ricostruire la storia del tifo Granata dal 19 giugno 1919 quando presso il civico 67 di Corso Umberto Salerno Matteo Schiavone insieme ad un gruppo di soci fondò l'Unione Sportiva Salernitana e con questa pagina dedicata alla storia della Salernitana chiudiamo la nostra rassegna stampa vi ricordo alle 13.45 all'appuntamento con il nostro TG grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito